Partiamo dalla prima categoria, compagnie assicurative. Il premio è quello di progetto dell'anno Insurance Diversity. Il premio va a AXA Italia per l'attenzione dimostrata sul fronte dell'empowerment delle donne come esempio concreto di un impegno per una società più inclusiva e sostenibile attraverso Angels for Women, prima associazione di business Angels italiana fondata in partnership con Impact Hub Milano a sostegno delle migliori start-up al femminile. Ed ho subito il benvenuto al nostro primo ospite, al CEO di AXA Italia, Patrick Cohen, buon pomeriggio, buonasera, dottor Cohen. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, intanto complimenti per questo premio che apre questa edizione dei nostri awards. Un commento a caldo, questa è la prima domanda. Sono molto felice per questo premio perché la diversità e l'empowerment femminile sono profondamente radicati in AXA. Io sono papà di una figlia e di due figli maschi e sono un mondo in cui lei possa avere le stesse opportunità, le stesse possibilità dei suoi fratelli. Quindi ci fa molto piacere questo premio. Approfitto anche per ringraziare il nostro partner Impact Hub con cui abbiamo creato Angels for Women e ovviamente tutte le Angels che rendono possibile questa avventura. Vogliamo sopportare le donne imprenditrici, le start-up al femminile, AXA al loro fianco. Esatto, lei ha detto una cosa molto importante, dare le stesse opportunità a tutti, visto che ovviamente questi awards, questi premi sono inseriti in un contesto particolare, quello storico, sociale che stiamo vivendo dopo l'emergenza coronavirus. Si crede che l'emergenza da questo punto di vista possa aiutare a, come dire, appianare un po' anche le differenze che prima esistevano ancora. Ma io credo che l'emergenza abbia fatto sì che ci siamo ritrovati tutti uguali, tutti davanti a questa enorme avversità ed è il momento di tranne delle lezioni e quella dell'inclusività, della diversità, anche nella risoluzione di questa emergenza, sono degli insegnamenti molto molto importanti. Benissimo, allora io intanto la ringrazio, non la saluto ancora perché adesso capiremo perché. Andiamo avanti.